Oh, era da un po' che non trattavamo di leak su smartphone di Samsung, vero? Bene, oggi ci ricopriamo tutto con gli interessi. Infatti non uno, non due, ma ben tre nuovi smartphone. E due di questi tre oltretutto sono pieghevoli, quindi sarà una puntata da non perdere. Iniziamo subito dopo la sigla. Quindi, ben ritrovati sul mio canale ancora una volta. Un saluto da Simone che sarei io. E lo credo bene. Oggi parliamo del nuovo Z Fold 3, dello Z Flip 3, e anche un piccolo accenno sul nuovo S21 FE. Abbiamo infatti nuove informazioni, ma soprattutto i render di tutti e tre basati sui CAD, come sempre avviene a poco tempo dalla presentazione. Infatti tra poco più di un mese ci sarà l'evento di presentazione Samsung di agosto, che racchiuderà al suo interno almeno due di questi tre smartphone. Infatti sull'S21 FE ho qualche dubbio, però staremo a vedere. Io vi ricordo che, ragazzi, sarebbe super apprezzato un vostro mi piace qua sotto, ma soprattutto una condivisione al video, perché oggi parliamo di roba veramente super esclusiva, appena proprio, appena sfornata, sta ancora fumando proprio. Quindi mi raccomando, cercate di supportare il più possibile questo video. E partiamo subito tra quello che è tra i tre e lo smartphone di cui abbiamo più informazioni, cioè il Galaxy Fold 3. Questo smartphone pieghevole, successore dello Z Fold 2, è stato prima leakato da Evlix qualche settimana fa, e proprio oggi è stato leakato anche da OnLeaks, che ha confermato al 100% tutto quello che era già stato detto. Ma la differenza è che OnLeaks, sappiamo, al 100% si basa sui CAD che vengono mandate a aziende di cover, eccetera, eccetera. Quindi qua abbiamo proprio con precisione anche tutte le misure dello smartphone, e due novità che si vanno a sommare a quelle già dette di Evlix, che sono delle bombe fotoniche. Infatti, oltre al design che mostrano questi render, cioè molto più squadrato sui bordi, molto più iPhone 12 Pro-like, diciamo, abbiamo anche la conferma del design delle fotocamere posteriori, che sono inglobate in questo ovale, diciamo, che si discosta tantissimo dalla nuova linea di design che ha iniziato a dettare l'S21. Infatti io speravo che, insomma, si sarebbe seguito questo trend delle fotocamere inglobate, diciamo, nella cornice, che, lo sapete, a me piace un sacco, e invece no! Come sempre Samsung fa una cosa e poi altre 20 totalmente diverse, senza un minimo di coerenza, evviva! Però oltre a questo, logicamente, vediamo anche che il funzionamento dello smartphone è identico allo Z Fold 2, quindi si apre verso l'esterno, c'è un display all'esterno, uno più grande all'interno, e niente, questo è sempre rimasto uguale. Il sensore di impronte sarà anche qui al lato destro, in modo tale da poter sbloccare sia lo smartphone da chiuso, sia lo smartphone da aperto con il sensore di impronte, e le dimensioni mostrano sia il fatto che sarà più sottile, sia il fatto che sarà un po' più leggero rispetto al suo predecessore. I colori, oltretutto, dovrebbero essere proprio quelli che state vedendo, quindi il bianco, il nero e il verde scuro. Peccato perché io avrei voluto vedere ancora una volta quel color bronzo bellissimo che c'era anche sul 2, ma mai dire mai. Magari lo lanceranno come versione esclusiva del sito, roba simile. Ma come vi ho detto, ci sono due novità grandissime rispetto all'ultimo render di Evlix, cioè, allora, la prima è il fatto che ci sarà la fotocamera sotto al display. Non in tutte e due i display, ma soltanto in quello interno. Infatti la fotocamera nel display più piccolo è a vista, la vedete anche voi, no? E ancora una volta il Galaxy Fold si dimostra il dispositivo più beta di tutti quanti i telefoni Samsung, perché è qui che Samsung butta con la paletta proprio le tecnologie da provare che poi approderanno se tutto va bene anche sui dispositivi più mainstream, diciamo, tipo l'S22, eccetera, eccetera. Quindi se la fotocamera sotto al display funzionerà su questo Fold 3, la vedremo poi ovviamente anche sui nuovi top di gamma, eccetera, eccetera. Però finalmente anche un'azienda come Samsung sta decisamente provando e buttando fuori sul mercato uno smartphone con la fotocamera sotto al display che sarà, l'ho sempre detto, la più grande introduzione degli ultimi due o tre anni. Ma poi la bomba ancora più grande è il fatto che, raga, ci sono riusciti, ci sono davvero riusciti e hanno messo il supporto alla S Pen sullo Z Fold 3. Io pensavo che sarebbe stato impossibile. Io vi ho sempre detto che sarebbe stato difficilissimo vederlo già sullo Z Fold 3 per i problemi di fragilità del display, che se ci butti sopra una penna così tanto fragile si demolisce, eccetera. Invece a quanto pare ci sono riusciti, o meglio, spero ci siano riusciti, perché insomma le vibes del Note 7 o del primo Galaxy Fold sono qui, dietro alla mia nuca. Che si fanno sentire, quindi please Samsung, ti prego. Però ahimè, se questa notizia da una parte è veramente wow, dall'altra è un aiuto, perché secondo me significa ancora di più il fatto che la serie Galaxy Note è definitivamente morta, caput. Arrivederci. Sia perché appunto verrà presentato ad agosto, molto probabilmente, che è la data che Samsung ha sempre utilizzato per presentare i suoi Note, sia perché, ragazzi, non c'è neanche un leak, neanche un leak che parla di un nuovo Galaxy Note. Ormai è passato un anno dalla presentazione dello scorso Note, quindi penso proprio che sia davvero arrivata la fine dei Galaxy Note. Ma prima che a tutti scenda una lacrimuccia, passiamo al secondo smartphone di questo video, che è appunto lo Z Flip 3. Problemi a parte sul nome, visto che lo scorso Z Flip era lo Z Flip 1 e Samsung ha saltato il 2 così tanto per, mi sembra molto Windows che passa dall'8 al 10 in un attimo, ma dettagli, ne avevamo già parlato in uno scorso video, ma l'avevo soltanto accennato, avevo fatto vedere qualche foto di qualche render fatto appunto da Eflix che è stato confermato anche quello. Ma va? Ed è quindi quello che state vedendo in questo momento, con la parte di display molto più grande rispetto alla prima versione, che è stato appunto il tallone d'Achille del primo Z Flip, e poi questo fascione nero che implementerà, ingloberà al suo interno anche le fotocamere. Io vi ho già detto che esteticamente mi piace davvero un sacco, poi il fatto che sia più squadrato, eccetera, eccetera, poi ragazzi me lo fanno pure viola, ma dai, cioè è mio, è già mio, il giorno che lo presentano lo prenoto subito, l'importante è che me lo facciano costare 1500 euro. Però anche per quanto riguarda i colori, al di là di queste cose dovrebbero appunto essere confermati per ora il bianco, il giallo e il viola. Io penso proprio che ci sarà anche una versione nera e anche una versione verde, ma staremo a vedere. E devo dire che, come mi avete fatto notare anche voi nei commenti di quel video in cui ve l'ho accennato, sembra proprio un Google Pixel, vecchia maniera, effettivamente, è un po' abbastanza ripreso dal Google Pixel, che non è una cosa negativa, perché a me il design del Google Pixel tagliato così, eccetera, è sempre piaciuto, quindi fatemi sapere anche cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. E poi, ve la butto lì, io non so quando verrà presentato, potrebbe essere presentato anche lui nell'evento di agosto, assolutamente, però non ne sono sicuro, prendete tutto quanto questo con le pinze, abbiamo una foto dell'S21 FE, che è molto più interessante del previsto, sia perché sembra proprio lo smartphone che dovrebbe essere, quindi un S21, ma che riprende alcune cose dalla serie A di Samsung, e quindi mettete assieme tutte queste cose con un prezzo abbastanza competitivo, ragazzi, secondo me sarà anche questo un vero e proprio best buy, ed è questo che state vedendo in questo momento. Quindi, come vi dicevo, è letteralmente un S21 standard, con i materiali di un A52, quindi plastica opaca, abbastanza ben lavorata, eccetera, eccetera, con un display piatto, niente bordi curvi, eccetera, eccetera, e con le fotocamere che, a quanto pare, potrebbero essere proprio quelle di S21. Quindi, ragazzi, caspita, stiamo parlando comunque di uno smartphone che venderà uno sfracelo. Tanta, tanta, tantissima roba, non vedo l'ora di vederlo, probabilmente ho più hype per questo rispetto al Fold a momenti. Ma detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, era da tanto come vi dicevo che non parlavamo di leak su smartphone Samsung, però oggi ne abbiamo avuto abbastanza. Ma come vi stavo dicendo, ragazzi, non ne abbiamo avuto per questi mesi, non perché io non ne volessi parlare, ma semplicemente perché Samsung ha presentato tre mesi prima del normale i suoi top di gamma, presentandoli a gennaio e non più a marzo barra aprile, e quindi gli S21 ce li siamo già bruciati, non c'era niente di cui parlare, e poi, beh, raga, non c'è nessun leak sul nuovo Note. Nessuno. Questo di norma era il periodo in cui, appunto, parlavamo dei leak sul nuovo Galaxy Note, ma, come vi ho detto, appunto, non ce n'è neppure uno. Quindi, niente, è per questo che non è uscito niente su Samsung. Adesso, però, sono arrivati tutti questi leak sui pieghevoli, e quindi eccoci qua. Non ho abbandonato Samsung, che è sempre qui nel mio corazón. Anzi, no, niente corazón. Visto che Samsung è coreana... Simchan. Esatto. Li tengo nel mio... Simchan. Ecco. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci rivediamo in un prossimo, sempre qui sul mio canale, e ancora una volta, un saluto da Simone. Ciao!